Ragazzi, buon pomeriggio. Ancora per Grano Salis abbiamo preparato un piatto all'insegna del crudo. Guacamole, tonno rosso e lamelle di asparagi. Abbiamo abbinato la focaccia all'agga spirulina. 3% di grassi, 5% di carboidrati, 35% di proteine. Un piatto eccezionale, lo dovete provare. Mi raccomando, per qualunque dubbio o domanda mi potete interpellare nel post qua sotto. Ci vediamo presto.